Segni del tempo, donaco, nostalgia, colori, un ambiente domestico italiano, diverse tonte. Questa collezione nasce da un percorso nostalgico alla scoperta di una serie di ambienti domestici italiani che il tempo ha profondamente alterato. Un elemento importante è stata la scelta del colore, che abbiamo declinato in maniera sempre diversa a seconda dell'interno italiano rappresentato. Abbiamo individuato cinque ambienti legati a differenti contesti e territori, rintrazzando in ognuno di essi un peculiare effetto di invecchiamento. Dall'affresco murario sbiadito di una villa, alle tracce di umidità sull'intonaco, fino alla ruggine che cola dai soffitti industriali. L'innovazione tecnologica ci permette di riprodurre su supporti ceramici di grandi dimensioni tutta quella serie di effetti di usura e stratificazione che normalmente solo il tempo è in grado di creare. www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti.